E' presto per te Anna. Ho detto, è presto per te Anna. Anche per voi signore. Parli allora. Oggi devo portare in giro i cani. Lei si agita se resta legata troppo a lungo. Lo è stata signore. È stata cosa? Legata troppo a lungo. Il signor Lester non sarebbe felice di sapere cosa succede in sua assenza. Perché? Che succede in sua assenza, Anna? I cani, signore. Grazie, Anna. Ci starò attento. E' bello sapere che tu tieni sempre gli occhi aperti. Grazie.